Fine d'anno tormentata per il Movimento 5 Stelle, dopo la senatrice Fucsia è stato espulso il sindaco di Gela che ribatte contro di me un'esecuzione. Francesco Cristino. In casa 5 Stelle il 2015 si chiude con l'ennesima espulsione. A farne le spese, questa volta il sindaco di Gela, Domenico Messinese, le accuse, mancata decurtazione dello stipendio e avvallo dell'intesa con l'Eni sulla produzione di idrocarburi. Messinese è rimasto ora con un solo consigliere a favore su 30, però rilancia, vado avanti e accusa, è stata un'epurazione. Non mi ha chiamato né Grillo né Casaleggio, mi è arrivato un'email dicendo che l'espulsione era per conto di Grillo. Dopo quella della senatrice Fucsia, dunque una nuova espulsione, arrivata senza passare dal voto in rete. Messinese ha fatto delle scelte politiche che sono andate contro il mandato che gli era stato conferito ai cittadini. I cittadini non sono stati ascoltati, chiaramente dovevamo prendere le misure necessarie. Grane anche a quarto, altra giunta grillina in Campania, non solo la lente di ingrandimento dell'antimafia sul comune, si dimettono anche l'assessore al bilancio e un consigliere in tutto questo. Da Parma Pizzarotti non esclude una ricandidatura invocando uno scatto di maturità del movimento che si prepara tra le polemiche al contro discorso di fine anno di Beppe Grillo in streaming dalle 20.30 sul blog.